Francesco Miano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per farci attraversare un libro la cui lettura è stata dedicata alla lentezza, perché ci sono dei libri che abbisognano proprio della lentezza. Poi noi, per quanto riguarda questo appuntamento del Posto delle Parole, siamo già lenti, ma ancora con questi temi bisogna usare maggiore lentezza e sottolineatura, come diciamo noi. Etica e responsabilità è il libro che andiamo a raccontare insieme col curatore Francesco Miano, edizione Ortotes, ed è un libro importante perché attraversa due parole difficili, due parole che oggi forse non hanno nemmeno più tanta presenza sulle nostre carte d'identità, se vogliamo così raffigurare queste due parole in modo molto semplice. Francesco Miano, leggo in quarta di copertina, è professore ordinario di filosofia morale all'Università di Roma Tor Vergata, ed è presidente della Società Italiana di Filosofia Morale. Che cosa fa un presidente della Società Italiana di Filosofia Morale, Francesco Miano? Beh, infatti è proprio questo libro che in un qualche modo è una delle risposte possibili alla sua domanda. Una società scientifica, in questo caso la Società Italiana di Filosofia Morale, cerca di mettere insieme tutti i docenti della disciplina, ma anche tutti gli studiosi appassionati alla grande questione morale, etico-morale. In questo senso tra gli altri impegni c'è proprio un approfondimento di quelli che sono i nuclei importanti, le problematiche più determinanti che oggi toccano il mondo dell'etica. E proprio la Società Italiana di Filosofia Morale ha promosso un importante convegno nel 2017, da cui poi è nato come sviluppo successivo questo testo, Etica e responsabilità da me curato, proprio per interrogarsi su due parole decisive per l'oggi. Prima di tutto la parola responsabilità, che ci aiuta a comprendere ulteriormente la parola etica. La parola responsabilità ci parla di una molteplicità di questioni che da sole già dicono la centralità della questione etica nella vita di oggi. Responsabilità vuol dire risposta a livello personale, capacità di mettersi in gioco, volontà di farsi carico, questo su tutti i interessanti che le scelte personali ci pongono. Ma responsabilità oggi vuol dire anche immergersi in una serie di problematiche che hanno a che vedere con la ricerca scientifica, che hanno a che vedere con i conflitti che a diverso titolo attraversano la società odierna, ma anche il mondo intero, che hanno a che vedere con le varie questioni che si agitano nella vita sociale. Oggi questioni di ordine etico e bioetico, biopolitico, questioni di carattere etico o giuridico, ma anche questioni di ordine religioso. Ci sono una molteplicità di questioni che interpellano la nostra responsabilità, ci chiedono di prendere posizione. Allora il problema è come, con quali criteri, a partire da quali valutazioni, dandosi quali priorità, che cosa oggi muove l'agire delle persone e un agire che sia responsabile e dunque in questo senso un agire etico, perché un agire non casuale, ma un agire profondamente pensato, riflettuto, un agire che sappia essere veramente espressione profonda di se stessi, ma anche espressione profonda di percorsi condivisi, condivisi con la comunità, condivisi con la società, condivisi anche nelle urgenze che l'oggi pone continuamente all'attenzione di noi tutti. Oggi l'attenzione nostra è rivolta a molte cose e non per fare il solito discorso dei malatempora, e sono sempre stati comunque nel corso del tempo i malatempora, è sempre stato così, ma oggi nella nostra attenzione e nella nostra disattenzione nello stesso tempo su delle questioni importanti, la parola etica, lo diceva poco fa lei, ci pone delle domande, non delle risposte, ci pone delle domande, e anche la responsabilità ci pone la domanda del saper rispondere, ecco, responsabilità non è nient'altro che la capacità di poter e di dover rispondere, e questa è una missione. Su queste due parole poggia per l'appunto il profondo saggio che lei ha curato per Ortotes, etica e responsabilità. Queste due parole vengono attraversate da un punto di vista veramente filosofico, ma la filosofia che noi troviamo in queste pagine non la si pensi come una filosofia nella Torre d'Avorio, la filosofia in queste pagine è filosofia che tocca il nostro quotidiano, che attraversa i nostri problemi, che arriva a toccare e anche a smuovere, lo speriamo, le istituzioni pubbliche, ecco, perché le istituzioni pubbliche non possono fare a meno di porsi di fronte a queste parole, alle parole etica e responsabilità. Ma infatti io riporto nel testo introduttivo un'espressione di Mounier, tra le altre, insieme a dei riferimenti a Patochka, un'espressione di Mounier che recita in questo modo, l'uomo libero è un uomo che risponde, è l'uomo responsabile, perché il punto è proprio questo, la responsabilità è l'espressione della libertà e le due parole sono strettamente congiunte, così come lo sono etiche e responsabilità, non c'è libertà che non si traduca nell'esercizio di una responsabilità e non c'è autentica responsabilità se non come espressione della libertà. Lei ha citato Patochka, pensatore, filosofo cieco, il quale diceva proprio che la storia non è una visione, ma è una responsabilità. Precisamente, questo è il tema, una responsabilità come una modalità d'essere delle persone, degli uomini e delle donne, una responsabilità come istanza normativa che sappia essere capace di traduzioni in termini di leggi, in termini di dinamica diritti-doveri, una responsabilità che è l'esercizio del dovere che è sempre l'altra faccia del diritto e questi sono temi che appunto come opportunamente lei ricordava interpellano non solo i singoli, ma interpellano attraverso anche la provocazione filosofica, interpellano la politica, interpellano le istituzioni, interpellano le istituzioni a tutti i livelli ed è importante anche questo tentativo che facciamo con questo testo di toccare il tema della responsabilità da ambiti, da una pluralità di ambiti, da quelli strettamente filosofici che caratterizzano le problematiche di fondo, che attraversano la storia della filosofia, a quelli che sono invece le teorie morali dell'oggi e alcune questioni che hanno a che vedere con l'attualità in un senso stretto, dalle questioni relative ad internet e ai social, a tutte le questioni che hanno a che vedere con la bioetica, alle diverse questioni di una società che oggi si pone e non può non porsi il tema della sopravvivenza del pianeta e dunque della sopravvivenza dell'umanità sulla terra, ai temi molto importanti che hanno a che vedere con il rapporto tra le scelte morali e le macchine oggi, gli agenti artificiali sono solo degli esempi, per dire la pluralità di questioni anche concrete e incisive per la vita delle persone che sono messe in campo in un testo del genere e a partire dalle tematiche che vi vengono affrontate. Francesco Miano, per evitare che il discorso della filosofia, dell'etica, della responsabilità sembra che sia un affare d'altri, sembra che sia un affare di chi ha in mano le leve del comando, di chi ha responsabilità politiche, istituzionali e così via, in sostanza per farlo breve Francesco Miano, che sia una responsabilità di altri, non di me stesso. Questo è il grande, è un grande pericolo, ma è proprio per arrivare a, per così dire, a un'informazione proprio di servizio, perché la filosofia si pone al servizio delle nostre vite. Per esempio, Pier Giorgio Donatelli parla di una cosa che per me è molto importante, vale dire la prospettiva relazionale, no? Che prende la responsabilità e la mette dentro i nostri rapporti. Ecco, questa è una prospettiva molto importante perché così facendo nella parola relazione non sono più gli altri, ma nella parola relazione ci sono anch'io. Infatti questa sottolineatura che lei pone attraversa i saggi introduttivi, il saggio di Donatelli, della Boella, di Fonnesu e come attraversa le singole questioni che poi il volume pone. Per me questa affermazione è decisiva. La parola responsabilità si iscrive in una dinamica relazionale. Se la responsabilità è da concepire come risposta, risposta dei singoli o risposta delle comunità, delle collettività, allora in fondo questa risposta indica una relazione. Se le relazioni si spezzano, si spezza la responsabilità, la responsabilità viene meno. Un recupero di autentiche relazioni va insieme a un recupero di responsabilità, nelle diverse forme che la responsabilità assume. Quella responsabilità diretta che deriva dalla relazione diretta con l'altro, dalla relazione con la persona che mi sta a fianco, della persona che mi è amica, della persona a cui voglio bene e quella relazione per tanti versi più indiretta, ma non meno pregnante che è la relazione dovuta ad ogni persona, possiamo dire che è sulla faccia della terra, che in un qualche modo è dovuta a tutti, che è mediata dalle istituzioni, ma che passa attraverso atteggiamenti di vita che o si riscoprono in una chiave relazionale, per quanto non immediata, oppure fanno perdere di senso anche allo stesso discorso sulla responsabilità. Il discorso sulla responsabilità è un discorso senza fine, perché ogni volta, Francesco Miano ci, e questo libro ce lo dimostra, ogni volta va contemporaneizzato. La parola responsabilità è una parola che è interisa del nostro vivere e del nostro sapere. La parola responsabilità è legata a un'altra parola, credo, alla parola azione. Però niente, niente, e nessuno può assicurare a me stesso che la mia azione abbia veramente un senso, se vogliamo un senso, un significato, fino ad arrivare al significato etico, nel significato profondo. Ecco, e la parola azione è un'altra di quelle parole che in questo libro Etica e responsabilità ci attraversa e ci pone delle domande. La parola azione è un'altra parola decisiva ed è un'altra faccia della responsabilità, del nesso etica e responsabilità, perché la parola azione dice intanto non l'azione in senso esclusivamente tecnico, anche quello in certi casi, ma prima di tutto l'azione come azione morale, come l'agire dell'umano che esprime l'umano stesso. Non c'è vita senza azione e questo è strettamente congiunto alla responsabilità, perché la responsabilità non è nozione astratta, non è qualcosa di declamatorio, non è qualcosa che troviamo, non stiamo parlando di qualcosa scritto semplicemente in un qualche codice deontologico, ma stiamo parlando parlando della responsabilità viva che deriva dall'agire, dall'incrocio di un proprio sentire ed un'azione come fatto ineludibile che si dà nella concretezza della realtà. La responsabilità c'è perché si mette alla prova, perché continuamente si mette alla prova nell'agire, altrimenti la responsabilità è parola vuota, parola vana, parola astratta. Responsabilità viene dunque anche interpellata questa parola perché la responsabilità oggi, per essere veramente in questi giorni, è una parola che introduce, lo dicevamo poco fa, il concetto della relazione, introduce il concetto dell'altro, chiunque esso sia, l'altro nostro familiare, nostro amico, collega di lavoro, l'altro che arriva da un paese lontano. Ecco, e questo aspetto della responsabilità che è farsi carico dell'altro senza dimenticare noi stessi, ed è questa una cosa importante perché oggi come oggi c'è forse un aspetto bunista verso gli altri per dimenticare se stessi, no? E invece no, invece io devo farmi carico dell'altro, posso farmi carico dell'altro se non dimentico me stesso, no? Io posso guardare l'altro in volto per ricordare la straordinaria tesi di Levinas, se io ho contezza critica del mio esistere, ecco, solo l'altro mi può dare delle risposte al mio esistere, ma io devo guardare l'altro, più che essere accanto, essere di fronte. Infatti il punto è proprio questo, c'è una stretta correlazione tra la capacità che ho di assumere la responsabilità di me stesso, che non è un dato intimistico, non è un chiudersi, non è una caduta introspettiva, quindi una correlazione strettissima tra la responsabilità di me stesso in questo senso e la capacità di assumersi la responsabilità dell'altro e di saper guardare in faccia all'altro, perché di non sfuggire il suo guardo proprio per usare il richiamo a Levinas che lei opportunamente poneva. Queste due dimensioni sono entrambi importanti per la responsabilità, se non imparo ad assumere la responsabilità di me stesso, sarà più difficile avvertire la responsabilità per l'altro, avvertirla in modo pieno, profondo, non superficiale e sono due dinamiche entrambe complesse e difficili, perché anche la prima, quella della difficoltà ad assumersi la responsabilità di se stessa, è un dato che incide nell'ordine delle relazioni evidentemente, nell'ordine delle relazioni, sia quelle interpersonali, intersoggettive che quelle poi istituzionali, sociali. Francesco Miano, questo libro, ricordiamo, Etica e responsabilità, Orototes edizioni, è un libro che attraversa, l'abbiamo già detto più volte, le nostre vite, il nostro agire, il nostro pensare. Noi abbiamo scelto alcune parole per questa conversazione, però se permette io sulla parola rimarrei ancora, vale a dire la parola non tanto quella che pronuncio io, ma la parola che pronuncia l'altro, ecco. Che cosa rappresenta la parola che l'altro pronuncia nei miei confronti? Perché la parola che viene pronunciata può essere una rottura, può essere un disturbo, può essere un disagio, ma quella rottura, quel disagio, rappresentano quella ferita da cui si può intravedere la luce per me stesso. La parola è espressione peculiare dell'umano e parole e responsabilità hanno un nesso molto forte, dove la parola, lei me lo insegna, non è semplicemente un insieme di suoni, ma c'è parola nello sguardo, c'è parola nelle parole, c'è parola nel silenzio, c'è sostanzialmente l'umano, è come dire che non c'è responsabilità senza comunicazione, però comunicazione nel senso più pieno, più autentico. E poi il riferimento alle parole e alla parola ci dice sostanzialmente la forza dell'umano e i continui pericoli a cui è esposta, perché da un lato ci dice lo slancio della comunicazione, il desiderio di mettersi in contatto con l'altro e anche di assumersene la responsabilità attraverso il lasciare intendere che è quello delle parole il senso della propria ricerca e anche la capacità di voler condividere con gli altri, però le parole possono essere come lei diceva anche delle ferite, le parole possono esprimere rotture, possono esprimere prese di posizioni radicali, le parole si prestano ad equivoci e fraintendimenti e che in alcuni casi diventano fatali rispetto alla possibilità stessa di una comunicazione. E quindi da questo punto di vista il nesso tra la responsabilità e la parola è un nesso decisivo e ogni ricerca sulla parola è ricerca su noi stessi. Se la parola è ricerca su noi stessi allora è importante saper coniugare il verbo sapere, il verbo conoscere, ma anche il non sapere, come poteva pensare, scrivere così profondamente il filosofo Derrida, anche il non sapere ha una sua azione di un potere incalcolabile, quindi anche l'effetto del non sapere, Francesco Miano, che non vuol dire essere nell'ignoranza, ma è un non sapere che attraversa la filosofia fino ad arrivare alla psicanalisi. Non sapere è il frutto della massima consapevolezza filosofica, perché esprime il senso del dubbio come elemento fondamentale di una ricerca che rimane sempre aperta, esprime il senso del limite come capacità di sapersi rapportare alla realtà in tutte le sue caratteristiche, esprime il desiderio di ulteriorità, il riuscire ad aprirsi continuamente oltre noi stessi, è uno degli elementi più profondamente filosofici che hanno attraversato la storia del pensiero, ma che attraversano la storia della vita, della tensione verso una vita autentica che può caratterizzare l'esperienza di ciascuno di noi. Il non sapere non si oppone al sapere, appunto come lei ricordava, il non sapere non ha a che vedere con l'ignoranza, quell'ignoranza che la responsabilità tende a superare, oggi c'è un ruolo del sapere anche dal punto di vista dell'etica evidentemente, pensiamo alla necessità di informarsi, di capire, di documentarsi per decidere, quindi non c'è assolutamente svalutazione del sapere, anzi al contrario, ma il non sapere in un qualche modo esprime quella dimensione di oltrepassamento di cui l'umano ha bisogno, proprio per ritrovare fino in fondo se stesso. Al termine di questo libro c'è un nome straordinariamente importante, quello di Agnes Heller, e io desidero leggere la chiusura del suo intervento perché attraversa tutti i pensieri che abbiamo detto finora, nelle scelte o nelle azioni è meglio valutare se la scelta sia giusta, prima di valutare se sia piacevole o utile. In secondo luogo, è meglio evitare la cieca accettazione dell'opinione pubblica e delle ideologie. In terzo luogo, occorre fare del nostro meglio senza mentire a noi stessi. E infine, occorre essere consapevoli della relatività, della nostra autonomia e della nostra fragilità di esseri accidentali. Francesco Miano, in queste parole c'è veramente il nostro senso dell'esistere, del nostro senso di essere fragili, ma del nostro senso anche di essere forti se solo la parola etica, se solo la parola responsabilità le sappiamo introdurre nel nostro respiro quotidiano. Senza dubbio, senza dubbio. Le parole della Heller e la presenza nel volume di un testo della Heller è un elemento qualificante del volume stesso, qualcosa di molto bello e importante. Le parole della Heller danno effettivamente, come lei ricordava, una linea di sviluppo e di sintesi di questo nostro discorso. Francesco Miano, prima di salutarci, qual è il libro che ne fa compagnia in questi giorni? È un libro di Romano Guardini, lettere dal lago di Como. È un testo degli anni 20, quindi 90 anni fa circa, però è un testo che esprime in alcuni passaggi una profonda attualità e una profonda conservevolezza del tempo che cambia e del modo anche, per tanti versi, del modo più opportuno per affrontare il tempo che cambia, che non è né la nostalgia del passato fine a se stesso, né l'adesione a critica ad ogni elemento di novità, ma è prima di tutto la consapevolezza che il tempo è la nostra responsabilità. Il tempo in cui viviamo è la nostra responsabilità. Mi fa molto piacere essere nel tempo che lei ha voluto raccontare quello di Romano Guardini. Romano Guardini, noi avremmo voluto ricordarlo proprio pochi giorni fa, perché proprio pochi giorni fa c'è stato il cinquantenario della sua morte, nel 1968, e ricordare questa figura straordinaria è importante. Per chi non conoscesse, le chiedo ancora qualche minuto, Francesco Miano, per chi non conoscesse il pensiero di Romano Guardini, chi era? Romano Guardini è una bellissima figura di filosofo, ma non solo filosofo, è un sacerdote cattolico, ma è una persona che si è occupata di educazione dei giovani, si è occupata di liturgia, si è occupata di senso anche delle istituzioni politiche, di senso etico delle istituzioni politiche. È una grande e bellissima figura, morta appunto nel primo ottobre del 1968 a Monaco, di origini italiane, la famiglia era italiana, ha vissuto sempre in Germania, quindi pienamente inserito nell'ambito della cultura tedesca, che ha saputo coniugare la sua fede profonda con la capacità di una ricerca aperta, di un sostegno ai movimenti giovanili migliori, più interessanti della Germania, in questi passaggi difficili che il Novecento ha portato con sé e che ha saputo offrire parole veramente significative sul che cosa è solo l'uomo, che cos'è la relazione con il mondo, che cos'è questo insieme di polarità in cui siamo continuamente immersi e che cerchiamo di mettere insieme, che cosa significa oggi essere alla fine dell'epoca moderna, che cosa significa oggi il potere, sono tantissimi elementi che però muovono con molta forza da un'attenzione alla dimensione dell'interiorità, non vissuta come una chiusura, ma anzi al contrario con la grande apertura che poi promana da una ricerca interiore che se libera e autentica porta verso fronti e orizzonti di impegno, Romano Guardini si è occupato di Europa per esempio, ha dei saggi molto belli sull'Europa, quando ebbe a ricevere il premio Erasmo fece un discorso molto bello sull'Europa e sulla capacità dell'Europa e questo oggi sarebbe un tema molto importante da riscoprire, sulla capacità dell'Europa di mettere insieme proprio le polarità e sul senso di una fedeltà alla nazione che però sappia essere in una prospettiva allargata, non la fedeltà come una chiusura, ma la fedeltà come un senso profondo che si riscopre proprio nell'ulteriorità, questo è giusto per dire qualche parola. Francesco, a proposito di Romano Guardini e soprattutto proprio questo discorso sull'Europa dovrebbe essere ripreso e chissà se la politica ha ancora possibilità di avere questi agganci, di andare a riprendere quel discorso di Romano Guardini e non dico contemporaneizzarlo perché è contemporaneo comunque, è una necessità conoscere il pensiero di Romano Guardini sull'Europa perché è un pensiero comunque di oggi, è un pensiero del futuro. Francesco Miano, grazie, grazie veramente per il tempo che ci ha dedicato, per il libro che le ha curato, Etica e responsabilità Ortotes Edizioni. Buona giornata. Grazie, buona giornata.